Sono Lime. Vi ricordo a voi tutti che se avete degli eventi, e mi riferisco a sagre, feste in discoteca, happy hour in spiaggia, feste di compleanni, concerti, e chi più ne ha ne metta, sempre a Riccione e zone limitrofe, segnalatemelo, scrivendo alla mia mail personale, che adesso vi dico, prendete carta penna e pad, gustino e il bagnino, tutto attaccato, chiocciolacquafan.it, dai, dai, che vi aspetto, e ci siamo.